Siamo qua con il migliore in campo della partita di Serie A, Gazzetta Football League in Pagnatiello. Sentiamo le sue impressioni sulla prima gara della sua squadra. È stata una partita abbastanza difficile, però l'abbiamo gestita bene. Abbiamo quasi sempre giocato a noi, per fortuna. Poteva finire con un margine un po' più alto, però nel calcio è anche questo. Ci sta, dai! Li consegno la statuetta di migliore in campo e la sacca di sport, questa è per te. E ti faccio un'altra domanda sulle prospettive per questo campionato, cosa vi attendete per questa Gazzetta? Non voglio spingermi troppo oltre, però cerchiamo di fare un bel campionato sperando di arrivare il più in alto possibile. Poi ora è la prima partita, è inutile sbilanciarsi ancora. Benissimo, allora ti do la bevanda sponsor della manifestazione, il Gatorade. Lo bevi così dopo una partita faticosa puoi bere un goccio per recuperare le energie. Grazie a tutti e alla prossima partita!